Ciao a tutti, allora per la sera in viaggio con Anna, oggi sono sul treno Ferrara-Firenze, avevo già anticipato che avrei proposto ai miei figli di andare a fare un viaggetto e Firenze era una meta che era abbastanza vicina e poi è una città che mi piace molto, quindi approfitto per dirvi anche questa cosa, perché in realtà nel momento in cui andate su Trenitalia e prenotate il vostro biglietto sappiate che con solo 5 euro, quindi davvero irrisoria come cifra, potete avere la Premium, ve lo dico perché io viaggio spesso e devo ammettere che la Premium è più confortevole, cioè vi basta guardare lo spazio, il comfort delle sedie, delle poltrone e quindi direi che oltre a questo, vabbè il giornale, ma soprattutto perché golosi in questo viaggio ci hanno offerto le fieste, infatti mia figlia l'ha già divorata e quindi la fiesta, ha già mangiato, ah e allora è mio figlio che ha già divorato la fiesta, eccolo qua, ha già mangiato la fiesta, adesso è presso con il suo cellulare e direi che ho stranamente una figlia che invece sta lavorando, studiando, cioè riprendo un attimo le sue espressioni, non so se sono riuscita a riprenderle, ecco mia figlia ha 10 in matematica, lei piace la matematica quindi quando può fa queste espressioni perché a lei è come se fosse un modo per rilassarsi, ecco le espressioni soprattutto sono il suo modo per passare il tempo, allora direi che nel treno non abbiamo trovato nessun, né il personale né come dire passeggeri con le mascherine e questo sinceramente mi lascia ben sperare che non ci sia tutto questo allargismo, detto questo io vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico, vi faccio magari un aggiornamento a Firenze ciao